Ciao amici e benvenuti in questo nuovo Coaches Drill. Coaches Drill è l'appuntamento settimanale dove condividerò con voi un'esercitazione che utilizzo con la mia squadra. Questa settimana voglio mettere il focus su una progressione di gioco per il 3-4-3 contro un posizionamento 4-3-3. Questa settimana condividerò con voi anche un video sul 3-4-3 di Graham Potter, troverai il link nella descrizione sotto. E questa esercitazione fatta su due progressioni è stata pensata proprio su quei principi di gioco, quindi su come andare a utilizzare i nostri giocatori in relazione della zona di campo con quel sistema di gioco contro un sistema di gioco 4-3-3. Vediamo subito com'è organizzato il campo, quindi l'esercitazione viene fatta su metà campo dove sulla linea del centro campo vengono posizionate in zona intermedia due portine e poi troverete, come vedete nell'immagine, un quadrato dove lì si svilupperà prettamente l'esercitazione. Il posizionamento dei giocatori invece qual è? Dentro il rettangolo di gioco che vedete a centro campo ci sono quattro giocatori, quindi i centrocampisti del 3-4-3 contro tre centrocampisti del 4-3-3. Fuori dal rettangolo di gioco vicino all'area di rigore ci sono i tre difensori contro i tre attaccanti della squadra avversaria. La prima parte dell'esercizio parte con il mister che gioca palla a uno dei quattro centrocampisti, cioè i due interni di centro campo più i due esterni di centro campo, i quali devono fare possesso palla. E devono fare possesso palla anche con l'aiuto dei difensori per andare poi a mantenere quello che è il possesso del pallone e poi riuscire a verticalizzare per andare a fare gol. Nel momento in cui i tre centrocampisti vanno a recuperare dentro il rettangolo di gioco il pallone, vanno a verticalizzare per i tre punti, un centrocampista va a assistere, va a muoversi nello spazio per andare a creare quella situazione di quattro contro tre per cercare di fare gol nella porta grande. Se i difensori che stanno difendendo, i tre difensori, vanno a recuperare il pallone, immediatamente vanno a fare una transizione offensiva per cercare di fare gol nelle due portine posizionate in zona intermedia. Progressione numero uno, se allunga il campo fino al limite dell'area di rigore, aggiungiamo una terza portina centrale e si aggiunge anche un ulteriore rettangolo di gioco dove si posizieranno i due difensori centrali più l'attaccante della nostra squadra, del nostro 3-4-3 e gli esterni offensivi fuori da questo rettangolo di gioco. Inoltre il play della squadra avversaria verrà posizionato fra i due rettangoli perché nel momento in cui la nostra squadra ricoprerà il pallone e andrà a verticalizzare per la punta dovrà fungere da schermo davanti ai due difensori centrali. I quattro nostri difensori rimarranno sempre dentro nello stesso rettangolo di gioco della prima parte dell'esercitazione contro le due mezziali e ci sarà sempre il duello 3-3 tra i nostri tre difensori centrali e i tre attaccanti della squadra avversaria. L'esercitazione parte dal mister che gioca palla dentro il rettangolo per l'esterno offensivo e l'obiettivo sarà quello con l'ausilio, con l'aiuto dei tre difensori chiaramente disturbati dei tre attaccanti della squadra avversaria di andare a giocare, di andare a fare possesso dentro il rettangolo di gioco per uscire poi a verticalizzare verso la punta. Nel momento in cui la punta riceve la palla può o servire di prima attenzione all'esterno per cercare di fare gol nelle portine esterne oppure scaricare per un centrocampista o un esterno di centrocampo che andrà a giocare per creare quella sua probabilità numerica e riuscire a fare gol in una delle tre portine. Quindi il gioco si sviluppa con un possesso palla centrale gioco, sviluppo, uscita sulla punta che decide o di giocare esternamente di prima attenzione quindi gol nelle portine esterne oppure di scaricare a un centrocampista e lo sviluppo successivo, la rifinitura del gioco successiva sarà in una delle tre portine. Nel momento in cui la squadra avversaria invece dovesse recuperare il pallone potrà andare a effettuare una transizione offensiva contro i tre difensori e contro i quattro centrocampisti utilizzando tutti i giocatori a disposizione messi sul campo in quel momento. Progressione numero due Nella seconda progressione andiamo a utilizzare tutto quello che è il campo da gioco quindi andremo a giocare con entrambe le porte e inseriamo una terza area di gioco un terzo rettangolo di gioco al limite dell'area di rigore quindi ci sarà anche il portiere della squadra avversaria e in quel terzo rettangolo di gioco metteremo, posizioneremo i due difensori centrali. Nel rettangolo di gioco centrale invece ci saranno i tre centrocampisti della squadra avversaria più la nostra punta mentre nell'ultimo rettangolo di gioco ci saranno i nostri due centrocampisti con i nostri esterni di centrocampo fuori dal rettangolo di gioco così come gli esterni offensivi fuori dal rettangolo di gioco dove è posizionata la punta. Nell'ultima parte del campo, nella parte più alta vedremo che ci sarà sempre il duello 3 contro 3 fra i tre attaccanti della squadra avversaria contro i nostri tre difensori. progressione che va a svilupparsi dopo l'inizio del gioco del mister verso uno dei due centrocampisti centrali con il movimento sul corto da parte della punta centrale. Il gioco potrà essere sviluppato lateralmente o verticalmente quindi andando poi a sviluppare proprio la verticalità offensiva oppure la lateralità offensiva. Se la palla viene giocata in zona centrale sul movimento della punta allora poi lo sviluppo andrà a crearsi sul lato quindi andando a sviluppare la lateralità. Se invece il gioco verrà sviluppato verso gli esterni di centrocampo o gli esterni offensivi che andranno sempre a cambiarsi andranno a attaccare spazi sul corto lungo guardando anche quello che è il movimento della punta che andrà a corto a fare il movimento a esca ma la palla viene giocata poi lateralmente sfruttando il movimento degli esterni allora poi la rifinitura del gioco verrà eseguita per zone centrali. Se invece la squadra avversaria, i rossi nell'immagine, vanno a recuperare il pallone potranno scegliere se fare una gestione del pallone attraverso i rettangoli nella propria metà campo oppure se andare a fare una transizione offensiva immediata sopra con palla verticale per favorire nuovamente un duello 3 contro 3 fra i tre attaccanti e i tre difensori della squadra avversaria. Se non ci seguite iscrivetevi al canale YouTube e se questo video vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!